Muy buenos dias model, oggi in questo video rispondo a una delle domande che mi è arrivata in Instagram e cioè come abbassare il colesterolo, a quanto dovrei avere il colesterolo e cerchiamo di capire un po' di più sopra questa tematica che sembra ci sia un trend dove abbassarlo sempre di più sia qualcosa di salutare, quando in realtà studi dimostrano che le persone più longeve sono proprio quelle con un colesterolo più alto. Quindi andiamo a capire la maniera più pratica, più facile, migliore, perché migliore non sarà con i farmaci ma sarà attraverso quello che vi dico, per abbassare, se volete abbassare il colesterolo, per abbassare questo colesterolo. Quindi prima di tutto che cosa fa il colesterolo? Il colesterolo non ha niente di male, tante persone dicono ho il colesterolo, meno male che ce l'hai perché fa delle cose importanti che sono creare cellule, la membrana della cellula è proprio composta da colesterolo, ok? Questa membrana per tutte le cellule che il corpo produce necessita proprio del colesterolo, sono proprio il cemento che il corpo utilizza per creare la cellula. Questo è il primo motivo, quindi indispensabile per la vita. Secondo è per una produzione di ormoni. Nella donna gli estrogeni e nell'uomo il testosterone. Quindi se non avremo estrogeni non avremo donne, se non avremo testosterone non avremo uomini. Quindi il colesterolo è essenziale, indispensabile chi ci sia. Vediamo di capire però come mai c'è questo trend di abbassarlo eccetera. Allora, quando si alza il colesterolo? Quando noi mangiamo carboidrati? I carboidrati arrivano a un certo punto al fegato. Il fegato produce più glucosio, che sono la trasformazione del cibo, in questo caso i carboidrati, in glucosio e il glucosio chiede al pancreas che cosa? Chiede di produrre più insulina. L'insulina ha proprio il compito di abbassare gli zuccheri. Che cosa fa? Prende tutta questa roba in eccesso, la trasforma in trigliceri di colesterolo e grasso. Ok? Quindi l'eccesso di insulina e l'eccesso di zuccheri è il motivo per cui hai del grasso in eccesso fondamentalmente. Ok? Quindi è una questione ormonale il perché si ingrassa. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo più colesterolo. Ma vediamo perché prima di tutto ci sono vari studi, li pubblicheremo se sarà necessario, tra l'altro sul mio sito topmodelfit.it trovate pubblicazioni e studi scientifici, ce li metto tutti lì in modo che quello che dico sia anche supportato da letteratura scientifica. Un livello di 260 nel sangue quando vi fate le analisi fino a 160 di colesterolo è normale. Inoltre ci sono studi che dimostrano che chi ha un colesterolo più alto vive di più. Al contrario chi ha livelli di colesterolo più bassi, io in questo caso vive di meno. Il medico ad oggi ti dice che se ce l'hai più di 200 non va bene. Ti dice di togliere le uova, di togliere i formaggi, mai menzionato uova in tutto questo perché non c'entrano nel processo di creazione del colesterolo. Ti dice di togliere le uova, ti dice di fare attività, magari sì, di fare uno stile di vita migliore, togliere i formaggi ma non ti dice di togliere il pane, la pasta, le farine, tutti quegli alimenti, il latte, tutti quegli alimenti che realmente ti stanno causando un colesterolo più alto. e perché il medico non ti dice tutto questo? Il compito del medico è quello di diagnosticare e prescrivere, non di curare necessariamente. Quindi perché? Perché se no questa è un'idea vecchia, antica dove il colesterolo non doveva essere più alto così e da lì poi sono nate le statine e tutti i farmaci che ci sono per abbassarti il colesterolo però poi ti fanno venire l'alzheimer, tutti i farmaci che ci sono perché bloccano un enzima e non vanno assolutamente bene i farmaci per abbassare il colesterolo. Però va detta una cosa, quindi allora due cose, non va confuso il fatto che i triniceridi che sono, triniceridi che sono una sostanza diciamo che quando gli zuccheri stanno per diventare colesterolo, stanno per diventare grassi, sono triniceridi. Questi si fanno male, questi fanno male, questi devono essere bassi. Quanto bassi? Inferiori a 100. Ok? E come si abbassano? Sempre nella stessa maniera, quindi questo è il motivo per cui dovreste non mangiare troppi zuccheri per avere i triniceridi bassi. Però per quello che riguarda il colesterolo, se siete tra i 260 e i 160 siete in un range che è normale. Poi in realtà si può vedere il rapporto tra colesterolo buono e colesterolo cattivo, anche questo è molto importante, però non mi focalizzerei troppo sul fatto che possa passare i 200, soprattutto nella donna tendenzialmente più alto che nell'uomo. Come abbassarli? L'abbiamo già detto ripetuto, lo stiamo ripetendo abbastanza, togliendo quelli che sono definiti cibi aggressori che scatenano un eccesso di insulina e quindi promuovono questo processo di, prima di tutto fanno ingrassare, ma anche se in questo caso potreste essere magri perché avete un metabolismo migliore, beh comunque vi stanno per esempio aumentando i livelli di colesterolo perché da qualche parte il corpo, il grasso, questo eccesso di glucosio deve depositarlo in qualche parte, non può sparire, no? E quindi tante volte il motivo è proprio che si alza il colesterolo e anche i triniceridi. Quindi che cosa fare? Abbassare gli zuccheri. Se non sai da dove partire qui sotto al video trovi una guida che si chiama la libertà alimentare, è una guida totalmente libera dalle grammature, libera dal conteggio calorico, libera dalla conta dei macro, è assolutamente libera, è secondo natura ed è un'alimentazione perfetta se vuoi stare bene, essere in forma, avere più energie, perdere grasso e quindi il mio consiglio è iniziare da questa guida che ti aiuta passo passo a intraprendere un'alimentazione migliore senza dover pesare le cose, le calorie e tutte quelle cose che si sono già viste perché l'alimentazione non è una questione di calorie ma è una questione ormonale e di metabolismo. Ci vediamo alla prossima!